E' un ricordo indelebile e veramente terribile. Nella notte, intorno alle 3 del mattino, ho ricevuto questa chiamata del collega Vincenzo Tomminia che era lì in mezzo al fuoco insieme ad altri colleghi e che mi avvisava di quello che stava per succedere. Sono riuscito a raggiungere il parco più o meno un'ora dopo, dopo essere rimasto in videochiamata a lungo con i miei colleghi e vi assicuro che una scena infernale così non credo che la rivedrò mai più nella mia vita. Ricordo veramente indelebile perché sotto queste vampe tutto era cambiato, tutto era irriconoscibile, completamente trasformato. Uno dei luoghi più belli del mondo in quel momento era un'autentica tragedia, un luogo veramente irriconoscibile nei suoi colori. Siamo riusciti con una forza di volontà, forse anche un pizzico di coscienza, a riaprire dopo nemmeno 36 ore. Dopo 48 ore Alice cantava battiato sul palco del teatro antico. Si è dovuto fermare due volte, mi ricordo, perché l'aria era talmente acre, il fumo ancora così presente, così forte, che faceva fatica a cantare. Da quel momento è stato tutto un lavoro interrotto giorno dopo giorno per recuperare quello che abbiamo perso. Quasi un milione di 300 mila euro di danni abbiamo toccolato, purtroppo senza particolari aiuti e con le nostre forze piano una volta siamo riusciti a recuperare tutto. A giorni ricostruiremo e riapriremo il bar che era completamente crollato, stiamo rimettendo a posto tutte le staccionate, oltre due chilometri completamente andate in fumo e poi i viali tagliafuoco e tutto quello che avevamo già fatto l'anno scorso, ma che non era servito a niente e che noi stiamo facendo in maniera più oculata e più attente, perché il parco ha avuto risparmiato il tempio e il teatro da questa distruzione. È una prova forte, è una prova di amore verso quel luogo che è un luogo veramente che merita amore e attenzione. Speriamo non si ripeta mai più e che se gesta viva sempre. Non casualmente questa scelta di pensare, progettare, realizzare FOS, che è un videomapping che ricorda la leggenda del Dio del Fuoco, dei vari racconti che nel mondo greco si succedevano per quello che era la forza del fuoco vivificante. È un segnale che abbiamo voluto dare per ricordare quel momento terribile, perché non accada mai più, e perché la gente pensi che l'incendio non è un momento ineluttabile, ma è un momento al quale bisogna reagire, perché reagire è cultura, è una cultura di interesse per quello che sono i segni della nostra identità, della nostra storia e adesso anche della nostra economia, perché se gesta è un parco autonomo, che gestisce un suo bilancio e che riesce a creare occupazione e reddito. Sta andando molto bene perché è una stagione ottima per la Sicilia occidentale, abbiamo avuto incrementi di oltre 25% nella stagione pasquale, adesso siamo intorno al 5-6%, nonostante il caldo torrido che ci ha saliti, ma la presenza è sempre molto buona, l'attenzione è molto buona e noi abbiamo cercato di mettere in campo servizi nuovi e nuove attenzioni per i nostri visitatori, per esempio il mercato degli Elimi ogni fine domenica del mese, il mercato dell'eccellenza del territorio, per esempio i picnic al parco, per esempio questi videomapping, le visite notturne con le guide, con gli archeologi, il trekking al parco e tante altre attività che avranno un momento importante a giorni quando inizieremo i lavori per consentire a tutti i disabili di raggiungere il Tempio in maniera agevole.